Samsung presenta il nuovo frigorifero Food Showcase della serie 9000. Un frigorifero in grado di unire, come mai prima d'ora, l'innovazione Samsung, le migliori funzionalità ed un design unico nel suo genere. Questo frigorifero è infatti dotato di una doppia apertura nella sezione frigo, pensata per migliorare l'accessibilità e l'organizzazione degli spazi interni. Il vano Showcase permette infatti di riporre gli alimenti ad uso più frequente per averli sempre a portata di mano. Per conservare invece i cibi più ingombranti ed utilizzati meno frequentemente Samsung ha ideato la sezione Inner Case che permette di accedere completamente al vano frigo con il massimo comfort. La doppia apertura permette anche di risparmiare energia. Utilizzando la porta Showcase si riduce infatti il flusso di aria calda che entra nel frigo rispetto ad un prodotto tradizionale. La temperatura interna è così mantenuta più facilmente con notevoli benefici in termini di consumi energetici. Il nuovo frigorifero Food Showcase è dotato del compressore Digital Inverter garantito 10 anni che assicura silenziosità assoluta ai consumi più contenuti. Infatti grazie ad un funzionamento equilibrato mantiene costante la temperatura interna con la massima efficienza. Temperature ed umidità sono invece mantenute costanti grazie alla tecnologia No Frost Premium che evita la formazione di brina, muffe e batteri. Il sistema di raffreddamento all around cooling garantisce inoltre una distribuzione omogenea della temperatura in tutti gli scomparti. Il mantenimento ottimale della temperatura interna è garantito anche dal rivestimento isolante della Metal Cooling Door. Il display Ice Blue e la nuova finitura Premium Inox completano il design elegante ed innovativo di questo frigorifero trasformandolo in un elemento d'arredo adatto a valorizzare qualsiasi cucina. Per saperne di più sul nuovo frigorifero Food Showcase e per scoprire tutta la nuova serie 9000 di Samsung collegati al sito samsung.it